Anche quest'anno Napoli celebra Pino Daniele con un concerto evento al Teatro Palapartenope nel giorno del suo 61esimo compleanno. Si intitola Isto vicino a te e si terrà sabato 19 marzo a partire dalle 21. Sul palco con il fratello Nello torna l'amico Enzo Avitabile e ci saranno tanti artisti che hanno condiviso e studiato la sua musica. È un omaggio, noi non facciamo altro che accompagnare la gente e il popolo di Pino con la mano a cantare le sue canzoni. Io e i miei amici, i musicisti, i miei colleghi, quelli che hanno aderito anche quest'anno. Ci sono dei giovani abbastanza molto interessanti dove Pino aveva un occhio particolare come Spichercenzu, come Gio Barbieri che Pino ebbe l'idea la prima volta di produrlo. Ci saranno tanti amici, quindi ci saranno delle donne come Monica Sarnelli, come Valentina Stella, è un barco a Bentaleb. Lo spettacolo è gratuito e sarà possibile prenotare i biglietti, massimo due ad utente, venerdì 11 marzo a partire dalle 11 sul sito web del Comune nella sezione relativa all'evento. Continua il ricordo a Napoli di Pino Daniele, l'impegno dell'amministrazione e di tantissimi artisti per Pino. Sarà una serata straordinaria, un ringraziamento a tutti gli artisti che con generosità parteciperanno. Il coordinamento di Nello Daniele, l'impegno di Enzo Avitabile e di tanti altri sarà una serata bellissima, organizzata da noi. L'accesso sarà gratuito e bisogna acquistare i biglietti partendo dalle ore 11 dell'11 marzo sul sito del Comune. In omaggio a Pino Daniele, sabato 19, gli eventi partiranno dalla mattina presso la nuova galleria commerciale di Piazza Garibaldi, con una lunga maratona musicale e la mostra Terra Mia, curata da Federico Vacalebre, per raccontare oltre 35 anni di canzoni.